Forse dopo ho i sub bro, quindi non so quanti dirmi faccio E come vende per le 5, guarda Bella quella altra Alba arriva quando Sceglia per farga tutto Due verso terzette Ah bello due Eravamo nel mood Chi è questo il maestro perché l'ho visto da qualche parte a giocare Io sono il maestro Ma scherzo Il maestro Non è quello napoletano Non è uno che twitch ha no Si ha fatto twitch Se lo chiamano il maestro Però non è il maestro Dov'è, dove andiamo? Mi sembra Viner Devo cercare Non mi vedo il tuo gioco Eh? Cosa? No, niente, niente Ma bene, questo è 10 Ah, non ce l'ho buttando Davide Las il Deus Dove Non è una infera Alla perverte Avevo Monro Mi piace A Il mio amico è bravo è il PM Occhio non è qui se potete mangiare bloccarmi su ogni angolo forse guarda me è sotto front 2-2-2 qua one shot 1 a terra 1 a terra un altro buscia roba sei full ma li pinga qua sopra 2 a 2 su 2 ne buscano 2 2 2 altri team allora tieni tieni grazie dove sono andato sotto un altro qua è andato qua pinga verde si stanno andati sotto altri team ah sono da me occhio eh posto one set bravi ma vai pati si 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 bravissimo ma che cazzo lo combino ah loro non c'era la via mica bow bow vicio vicio eh altri altri posso fare uno vai ah no come dicevo sono i copri guarda che cazzo non c'erano che cazzo cazzo lo combino solo no chi cazzo ma prima non c'è ma non c'è tra l'ho tronoccato madonna è più fessiato da botte eh era la mia, era la mia nooo guarda è molto buono guarda è molto buono hanno armi qui da me dietro dietro nooo l'ultimo colpo no muoio non c'è non c'è c'è si ho bussia ho poco tempo bussia ciao persico come stai tanto tutto bene bravo arriva l'altro ma cristo ma era qui nooo dove? lo vedo ma è la terra, non ho armi io è la M1 ce lo sto facendo pure per lag persico come stai tanto non ho capito se sto sotto non ho capito se sto sotto guarda il drop viva c'è il drop d'arma che era libero ma era uno speed nooo questo mi fa senso qui che cavolo chittatissimo ho dovuto diversare qui sotto allora ok dove sono morto io erano due cazzo dato bene arriva tutto davanti a me a fronte al carac... ah sto a bot c'è lì davanti eh dov'era... ho buccito quello si è due a terra si grazie c'è una terra lì un'altra rapida si bravo ma tu mica ma stai andando su via raga pistietta mi avete ancora giuro che ti muovo ti blocco tutto bene cazzo tutto bene grazie cazzo vabbè se lo oddio è vero 3 lag ragazzi clean l'oddy posso prenderlo eeeeh tutto troppo come non posso è molto rischio è molto rischio è molto rischio posso prenderlo su Tor per vedere quelle lì che picco superi tower top 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 è un soldato nemico arrivano passi da me mi sa che sia troppo di me sono troppo di me sono ok si ok si smitti 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 uno sta salendo eh per qua per quanto conto uno sta salendo insieme si sì ooo ma dietro nonno no no vai dietro Allora, Camper più PPSH Non si può vedere Non si può vedere Camper PPSH Avevi uno sotto Oh sì Hittato Sì sì ma non lo vedo più Allora Come sei messo l'ho Buono Ok Andiamo all'altra parte Eh Non vi giro qua Team qua Finchia Non lagerare Hai bene il piatto di guerra Venga rosso Bravino Non ciò Non ciò Non ciò Dalle due tiende Un uomo qua No Non ciò E' un uomo non sta a me war mi serve la mano oh 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 mi pucia mi pucia mi pucia eh lo so lo so senza munizioni devo caricare devo caricare ciao one come stai bello mi sto bene un lavandiamo la bandì davanti 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 What the fuck, bellissimo Quanti? Quanti? No, la mia mia sarà lì Tenete, rega Un AD, qualcosa, fiasco Un drop? Ci sono armi di chi si fa che mi attenti Sono solo lo sniper Direi che cazzo vuoi avviare Buon mordato, andate andate Mamma mia, guarda dove stanno tutti Ma io sono salito sopra Quasi craccato per lì Qui sopra C'è anche un altro No Per un altro video No Ok Mi stampa, roba Ma per Guarda, sta curando Vai Alessi, come stai bello Sto prestando Stato Sotto gli angolini Stare una bomba lì Si è piastrato, si è piastrato No, è disattivato Ma dai 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 bombardo ma perché è pavero che me l'ha dato là è 30 metri fin là è solo un team da due, qua siete 1v1 ok, 1v1v1 non lo vedevo non lo vedevo, non anch'io però ah, eccolo wow è un ediglitz della madonna ah, è morto cazzo, non lo vedevo proprio eh io ero super freddo, sorry raga l'ho giocato poco male vabbè, qui a chiudere il match con due king ma mia oh my god andiamo se n'è qualcuno al cazzo anzi 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 cambiamo guarda che ieri c'era veramente uno contro di me invisibile che mi seguiva si? si, non so che bug è te lo giuro era invisibile gli altri non lo so ma voi invece lo vedevate vero l'ho? c'era anche tu quando era successo niente non c'è pezzo di cane ne approfitto ora che non giochi per parlare oh che tatone grazie ormai hai capito quando sto traiardando che ahahah come stai Juan? tutto bene Tato? si vince eh prima partita dai è andata abbastanza bene per i miei compagni per me è mica tanto ero gelato nelle mani però dai ci sta Marti Agata Umberto Buma Riccardo Alessio Juan Luca grazie per il like tatone grazie mille per la compagnia belli miei dai dai ci sta te come stai Juan? tutto bene? ti stai rilassando in ferie? te la stai godendo? Immortal Bersack grazie mille per il like bello miei grazie Riccardo magari top player magari lo voglio anch'io il badge di follower di un anno non è giusto mamma mia ma ce l'hai eh ce l'hai eh fa vedere ah no è l'abbonamento attivo da 8 mesi beh fra però c'hai l'abbonamento attivo da 8 mesi eh fra ti assicuro che non è da molti eh te lo assicuro 178 giorni ladratissima non è assolutamente vero che bug sto FB raga alla grande sto al mare che mi godo sti sti sgoccioli delle ferie sgoccioli? ormai sei sei alla fine Tato nooo quanto ti rimane beh o è un modo di dire sgoccioli in realtà ti manca di po' una settimana 8x30 240 240 giorni minimo minimo cioè solo della sub contare poi il tempo in cui magari non eri ancora sub mettiamoci magari 2 o 3 mesi di 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 impostare l'amicizia eh eh One invece gliel'ha contati tutti minchia wow bro 641 fra fuuu bro la Marti da 293 anche lei è buggatissima anche lei secondo me perché anche lei ha tipo 8 mesi di abbonamenti di cui 2 non glieli ha contati perché secondo me non ha rinnovato l'Hub quindi è buggata anche lei in pochi eh sono giusti giusti 641 eh grazie a tutti eccolo lui è il king ALE lui rega insieme forse un altro mio amico proprio eh siamo sono lì 770 raga ma stiamo scherzando nulla da togliere ai restanti 200 giorni 300 600 rega ma 770 praticamente da quando mi è partorito mia mamma e ve lo dico e anche lui c'ha una serie di supporto di abbonamenti tipo 8-10 mesi una roba del genere lui è proprio fedelissimo alla pagina top mamma mia ALE che flexata ragazzi devo mantenersi un pello guardi da su che coglione che sei grandi raga grazie per il supporto figa Antonino da 400 giorni raga oh my goodness bro impazziti raga figa chat rega di veterani del mondo eh tengo buono per quando diventerai milionario fai bene fai bene tutto a buon rendere vai tranquillo ricorda tra buon rendere bravo mi piace che sei super positivo io non ci credo solo a me buggato eh tutto buggato te gavio poverazzo dobbiamo far causa versi qua a facebook indroppiamo una bella causuccia così ci facciamo tutti un po' più di soldi e ce li spartiamo va bene? che dite? eccolo eccolo dove stanno gli enemy? wait oh no colpiscechino boys qua c'è una cassa personale raga che facciamo? ho trovato un punto c'è chi non lo ha fatto di qua no dopo dati stiamo lo sniper da no 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 è saltato sopra la 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 scrivania vaffanculo tic toc sono i tic tocker raga tic toc madafac oppure user c'è pure il nome è nascosto si si wow è un vero pro ghi ma forse hai tolto lascia i soldi per Wavie ovviamente era oggi il persico però solo anto mi ha risposto quindi farlo per uno Wavie non ce l'ho raga l'ho trovato io uno per te noccia un po' giochiamo eh andro capì ma se siamo un po' di più facciamo un sport no no è qua dalla finestra no però chi era questa persona ma raga mi sentite eh si si era considerato a scappare come un pazzo arriva arriva damme damme qua qua non arriva un altro fuori one shot uno sul tetto eh un altro che arriva azzurro per una mano raga ring azzurro mi ha noccato uno sotto uno top buono oh mio dio che fanno ricaricare no raga è qua nel tunnel cazzo scusate raga è tenere mia mamma mi temono colpi sniper albano è vicissimo ho un golpe in gana si uno è close ti pusha ti pusha tu sei due ti pushano dovrebbe essere sempre lì sempre lì sempre lì ma sei serio sono qui ho tutto bello cosa ragazzi io ci senti per lì non c'è 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 qua sotto due sono quelli bravi sottorate tirato troppo sopra l'alto amore c'è un soldato nemico c'è lì davanti montello c'è vicino guarda lo shock c'è un soldato c'è un soldato dove sei? Dai! Dai! Gigi! Oddio Mi sparano dalla torre La linea del faro Mira anche a me L'avevi trovato quello del faro? Sì, forse sì, con il cecchino Ehhh, no, hizo un sottocke Realmente non è Che vantie il tempo Che colino non mi fa bombardare a terra dai me lo fai tirare uno è qua pittato che culo non ho visto vediamo 3v3 c'è una macchina qua chi ha deciso me l'hai confermato quello sotto? si si un camper con il tumore in volo tutta insultata guardate lui perchè ce n'era lui in volo no no era qua no come non detto safe scherzo 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 ma c'è uno dietro flanca flanca uno fatti quello dietro sei fatto? let's go let's go su non non ає dai in mano tutti d'accordo partono alla fine pensa quelli che giocano a gta allora alla fine si fatti di gai e la rega grazie a tutti se si abbiamo fatto una bella a noi eravamo camperoni mica voi sulla torre fermi noi camperoni ha detto a me gambele che c'erano loro nel faro ma infatti è cresciato tutto io ho pushato loro ok rosichitas ne abbiamo stacchilo no un altro aspetta vediamo fatti capito e quello c'è almeno erano in tre sulla torre ti giuro le ho pushate tutte a tre almeno si realista ma non lo sono neanche capito allora erano quelli camperati ma sono un game al volo vai vieni scusate mi dove dimmi quando ma quello che sarà tiktok quello che non si vede il nome tiktok ma secondo me si chiama proprio user lui ah user così? no guarda che user quando vuoi coprire il nome ma come fai a coprire il nome? modalità streamer in opzioni account ma la modalità streamer non è che tu non vedi i nomi dell'agenda si è così no che l'agenda non vede il tuo l'agenda non vede il tuo nome i nomi degli altri giocatori vengono sostituiti da nomi casuali con l'eccezione dei membri del tuo party per proteggere la tua privacy guarda lo streaming comunque era la pippa non mi ricostavo male va come se la prendo pippa pippa aggressivo guarda non si vuole far mettere i piedi in testa assolutamente no dalle pippe soprattutto avevate secondi loro no? si si erano gli ultimi parliamo di gente che è partita non si sente più è saltata la corrente ad alba è sempre il solito vuoi fare un 1v1? ma con cosa? fra si diceva queste robe qua su code 4 mv2? si mv2 e code 4 su film mv2 ci sta arrivando eh 1v1 che è il cazzo più lungo solo intervention si si mamma mia almeno lì era divertente si lì la skill c'era mamma mia quanto mi divertivo guardate l'attrezzatura figa 1v1 1v1 slow wick e te dovresti dire si andiamo tiabbo lo polverizzi anche lì a casa guarda lo apri proprio cioè nel secondo c'è il primo con 8 kill non è manco classificato vuol dire che se per la ripartita buon profilo beh ma lui quello che è aggiornato si si no no perchè non sei classificato quando hai fatto poche partita ma direi che è scontato non è finito non è finito però te lo faccio vedere lo stesso non è che lo definito non è finito la zona di guerra vi aspetta angelo è a sprella in qua andiamo a primitiero dai dimmi quando ne come va via gpu 80 gradi mi sta esplodendo 80 gradi la gpu si wow che sporca è disco è disco è disco eh no la spiglia che fa la spiglia è giusto boom ma cosa è qui c'è dentro minchia asfaltati così oh 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 sopra i due vengato uno aiuto grazie eh sì che sono in bana hai visto uno e l'altro la torre cremole troppo vai lascia sopra bella 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 vai mettiti per la testa dove sta due 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 uno claccato uno a terra geka uno c'è 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 sta restando uno qui sotto oh sono moruti oddio come spara se ne trovo tre in casa ma sono uscito ma è distrutto gg da qua raga fu il team qua in viola oh no c'è me da oh no c'è me da 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 non mi pego es l'altro è dal nostro loadout da me dove cazzo è arrivato? c'è l'insu di tomba non è vero un po' di armi un po' di armi non sono Gm, ma ho Gm, ma ci siamo a fuck it dude No, mi buscino, è morta, 2-2 Stanno in occhio No, è questo Ah, è fasto Oh, mi muovete, zio Ah, aspetta Ah, vince, ecco, il testa Dai, sali, cazzo Ah, dai, Giulia Vieni, picchiola Ah, ma, ciao Ah, ma che cazzo è, oh, è rotto i coglioni Fatti, li alloda Cazzo di sbocco, mi sono veramente addosso Tutti qua, sono tornati, tutti qua Ti stanno pushando, bro Ma perché Beh, ragazzi, vi abbandono Come cazzo è rimasto incollato? Qualcuno da evitare, Munta? Eh, io mi so che gioco un po' con i sub Dai, ci becchiamo Ok, ciao Ci becchiamo poi, va bene? Grazie per game Belli Grazie Ciao Ok Subete, se ci siete, ce la nerdiamo, eh Allora Mituaramis Bravo, mi senti? Sì, ora sì, ciao Monti Ciao Tato, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene Ciao Mattia, come stai? Bello, grazie per la condivisione Nicolás, Paolo Vittorio, Manamur, Angelo Grazie per il like a todos Mucha c'è, mucha c'è Pa, 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 pa Minchia, han tolto Han tolto Han tolto Weeburn Han tolto Minchia Non sanno più cosa devono fare Mamma mia Che demon Ha provato un trascettino Peccato che non sono sub Ahia Matti Puoi rimediare, eh 5 euro e via Eh, eh, eh Eh, eh Due canne Vra e via Si va Dopo il mitraione Metti il 2,5 Di merino Ma secondo me Guarda che va benissimo Guarda che tutti Utilizzano il 3,6 Proviamo Allora, lavorata è giusta Questo va bene Non ce ne manca Quara E la magosca Io non ce l'ho A livello da star Ma non la uso Vediamo Eh, c'è il progetto, eh Va bene, Franci Io faccio giocare Chi c'è, Franci Quindi se qualcuno Entra prima Track Prende il post, eh Disse che oggi Zero prenotazioni Non li ho A che livello è il progetto Sai che non ho la più Quale d'idea Di questo passo Prima di tutto Non ho la più Quale d'idea Quanto a me Non è neanche Di sto passo Veneri Sono io Ah, le fino a quando giochi Due orette faccio Due orettine Tre orettine Dipende Io non ho visto niente Su telegram Ho scritto Chi c'era oggi Per i sub Per sicone Oggi l'ho messo Ho scritto Verso le tre Era, no? Ho scritto Chi ci sarebbe Oggi Per i sub Alle tre Ai venti Tato Rega Comunque Se c'è un affluenza Adesso di tutti i sub Faccio tipo Due o tre partite Poi switcho Faccio altre due o tre partite Poi switcho Altra gente Così Tutti hanno un po' Non è che succede Qua Non è che succede Io bella zack Ciao bella Ciao abriu Com'è? Tutto bene Dai Tutto bene Voi tutto bene? Sì sì Tutto bene Sei carico pronto a far 30 bombe Sono ando quando vuoi Allora fai Dove ho ando No come vuoi? Dai dai Buon vinto nelle sue capacità E abilità Eh hai visto Ce l'ho detto Appena Mi lavoro Eccetera Farò anche delle giornate Per il foglio Adesso Non ho più Un po' di Di Non ho più Lo sai Dobbiamo Vi provo anche Li farò anche Per totale Perché abbiamo Ciò portato anche voi Quindi è giusto Che giochinesi con voi Arrivando un nemico Attenzione Siamo forti Graveyard Dici Nico? No alla fine anche Chi ha solo follower dà le stelle Comunque commenta Intrati nella chat Mi guardate quindi alla fine partecipate un po' tutti Vittorio mi sto laureando In psicologia Scienze tecniche psicologiche La triannale Un uccidente per sparire Era rinforzato E accumulato il giro Non mi prende Un uccidente Un uccidente La stanno meno Un uccidente Ah bello Ma se ci giochi per mobile Matti Non pensa a te Abbiamo in giro Ti lascia il caso Un uccidente o qui i i i i i i i i in l'anno Dov'è, dov'è? È qua Lì sotto sono tutte e tre assieme C'è giallo Niii scuola Mi spavano da dietro Com'è da dietro? Uno via Uno via Via da là che sono tutte le cosette Sono tutti immobili Andiamo verso Qua Al sovrotta Quindi arancia Arancia E' un nuovo ragazzo Ricerca in corso Miglioriamo l'attrezzatore La zenta è zero Come questa Di me non c'è nessuno Qua ne ha Sono qua a chiocciola Sono qua a chiocciola Un nemico Due da me Allevo Abbiamo Dove? È tutto top? Si C'è il corso sub altri? no, qua sotto lui c'è c'èっと gente? qua no, no, ancora due, non è la scena, non ti è stato io, è stato proprio Se vuoi inerdarte la per mobile, io preferisco di gran lunga PC, non so Ok, ovviamente Ok, arrivano Allora sono morta io Sì, sì 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 Che camper Sì 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 Che agonia Sì 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 Mi rizzi tutto Ma che è questo tamburo? Ma che stai suonando il tamburo? Che stai facendo? Sono un tamburo Ma ti stai suonando la testa? Suono tutto, suono il grillino E' così vuoto? Si Stai a vederci ancora vivo Minchia 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 Ma che è quella tag ciccio? Ma che fai? Pubblicità un altro? Pezzo de merda? Com'è il cittadino? Mi ricorda l'intrella Ma mi metterla in di più del pavo Vaffanculo Gitto Basta me la tengo Da voi vaffanculo me la tengo Ci vuole tutta Approvo Troverà mai il game? No Io ora mi guardo la storia di tipo di cyberpunk Ti devi guardare il monta, Matti Ma che c'è la re tv? E' al monta c'è da guardare Anche quando stai a cagà Il monta Oh my god Oh my god Oh my god Che palle voglio riberto bro Dai 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 Infatti Ma che è? Ti bottazzi di Activision Vaffanculo Snierega A questo punto vado a guardarmi una bella ragazza Che c'è? Nooo Io ti posso dare più emozioni, Matti, di una bella ragazza Ricorda tu Mi dico Attenzione in alto La 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 Una bella tramicchia Mi piace quella Ah Sì Andiamo qua Anzi Anzi Signiamo qua C'è lo shampene anche qui Stava Andiamo in quale Si ma non c'è Noi non c'è Non c'è Noi non c'è Non c'è Noi non c'è C'è la base non c'è cammino fuori c'è lì zona in cima dai soldi come stai bello di casa grazie per il like e per la condivisione ma no c'è un cecchino a sinistra come cazzo si sale allasci serve ben bello la terra tutto bene giochi tutto bene grazie dato grazie 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 e giudice adesso siamo un attimo full dopo quando rifaccio stanza si francesco grazie per il like bello però prima in coda ce n'erano degli altri jody non mi ricordo chi ti è anche scaduta la sub jody eh no eh eh no eh eh no eh da te non me l'aspettavo broschi eh no devo trovare un modo di riuscire a mettere la musica senza copyright problema che anche quando la metto a volte facebook mi si bugga e me la dà con copia rete non mi dà più la monetizzazione che palle ho perché facebook ha tutti sti bug qua comunque dopo mi aveva chiesto di giocare ale sicuro 100 100 poi c'era anche cazzo mi aveva chiesto anche non mi ricordo ah persico ma va via perché va a lavorare io bro non mi fai incazzare eh eh ciccio sembra morire come un babbo dai eh vedi di prendere line bot e vuoi l'axo da sopassi da sopassi ma so mia da sopassi tu passi ciupapi mugnano l'oreste con delle visione per il like broschi amarti ovviamente mezza morta regaliamo delle cuffie a questa povera amarti raga facciamo golletta poverina o forse una nuova play forse la play che va a cagare no tutto 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 troppo daniel san grazie per like ma com'è possibile appena rinnovata mi dovrebbe scadere il 13 settembre cioè oggi tipo che giorno è 12 12 fighe è arrivato 12 a io vado a pagare un gioco e io domani riposo cioè e ti fumi bomboloni e ciccio quando riposo ti fuma i bombolazzi e gioca meglio e gioca meglio sei più rilassata si sente si sente chiara cellulare e tutti tutti non cellulare questi c'è i carabinieri qui e mi amicinando lì altari e che vado gli smirri lì sì sì nice oh lo sai vero ciccio che anto è una guardia devi stare a te per quello che dici ciao 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 è ciccio bravo no ciccio è ciccio è ciccio è ciccio non parla più ancora ha cambiato ciccio lo sapevi? Ma chi? Quanto? Aramis Chi? Aramis Capiti, stai qua Tengo un po' di ruota orecchia Quindi non devi dire mi fumo i bombolotti Perché guarda che ti blizza a casa, eh, lui Occhio, eh Ti fai blizza, eh Ma perché si perde l'udito? Perfumo, ho perduto l'udito, come? Al cimitero, a baribecchini Nooo Eh no, mi li so Ma perché c'è una GPO 80? Ma che cazzo c'ha? Mamma mia, Jody, mi fa rizzare tutto il grillone Scammate tutte, ciao Di chi erano le armi della Marti? Già, do Marti, vaffanculo Già, di grazie mille per la Rissab, Brozki Un mega bacione, Tato Dopo quando faccio or C'era solo il lecce l'arma e mi manda a sfanculo Sì, sì, tutto, tutto, Marti Dopo quando faccio stagio ti invito, Già, di Grazie mille Nooo La piazza così, da Marti? Aia Aia Bene, allora devo sfruttare l'occasione La prossima volta incula anche la vitraietta Faccio 30 e devo fare 31, eh Eccolo il bot Che bella questa Guarda, guarda come sta da bene E' a terra, è a terra E' a terra, è a terra Lo pusho, non so se si resta Guardi Aramis Aramis, i soldi? Oh, sì Lo devi dire l'altro quattro volte perché ci vuole un attimino con Asha Nooo, come si? Ti sto trollando, no, non mi devi dare ragione Oh, ti sei ripresa la mia arma, Marti? No, te, te, te No, qui è Che soldi? Nooo, non era quella Mi hai detto l'arma di carotte No, quella Ah, ecco lo strunt Guarda, guarda Andiamo Andiamo front Dove andiamo? Front front Avanti Vienere Oh mio dio,artin cosa ho visto No, no, io non hographito niente Cosa me hai fatto Ah, beh, me l'hanno scammato Oh mio dio Com' l'hai usato no vabbè hai da un buono distrutti, cacati in faccia vado si è peccato in testa povera si è guarda che ci pushano gli altri dietro, dietro, dietro cazzo mi sparano, aiuto, aiuto vado vado da quattro vado da là 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 No, 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 no R1 Ok, ok, che c***o Eh, non c'è sicuramente il post qua Per fedia Guarda c'è un post di m***a Veloz c'è gente Non c'è il posto C'è gente pure qua? E' arrivati quelli all'out No, no Ehi, però non c'è ghiaccia davanti No, no, no No, no No, no No, no 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 Ehi No C'è gente all'estera Ma quanto fanno schifo quelle... 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 C'è gente Ehi 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 Qua c'è tempra Qua c'è tempra Abbiamo due qua sotto Qui al Fink c'è una terra... Dua terra... Dua terra... Qua rega una terra C'è una terra Che verde... Niente Sì 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 l'ho visto Ciao Persico Buon lavoro dato Un bacione grazie per la compagnia No perché io Ovviamente gli devi fare il giro Sì sì Panno C'è un centro dietro Muori Marti sponi prima Cioè non ti restare mai se non la sai Luciano grazie per il like No Pietro lo senti Ah no te la ho detto Ciao Diego come stai bello mio No C'è gente qua Ehh Baaaaaa No I'ai gente dietro Quella è qua Scusato Bellissimo Per loro si sa fare eh Che lo winchiamo Ehh no Mamma mia Ho fatto Quando è pronto come stai diego tutto bene c'è un team stanno salendo stanno salendo da lì sotto da qua il nemico è qui tira con me arrivo pure un altro front ok c'è gente un altro fronte a me un altro fronte dal carrello carrello e si guarda si guarda carrello si guarda la coda la coda pure no mi distraio è a mano in sopra niente uno è lì sotto dopo buttare il bombardamento c'è uno quanto non è ho visto siamo tra i v2 andiamo insieme staranno sotto andate in safe andate in safe non è qua starà sotto ah ma ciccio è morto ciccio e mica vai guardate la martì come vuole tutti voi guardate tre tre due una martì dammi soldi aramis dammi soldi dammi soldi 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 intanto io il coraggio di pushare non è fa andate no no masso finale ma sei un merdino niente tra la martì e anton non c'ha da fa ol'i e ciccio pure mamma mia che player Tutti a Y Bella pro Tutto a Y Ah tutto a 4 Ok Ho messo in difficoltà Sciolta la lobby Distrutta, polverizzata, smaterializzata Scagazzata Dai facciamo ancora una Che poi io rifaccio il gruppo Posso giocare anche gli altri No Ah si No Te poi mai offeso Ciccio sei morto alla fine Non ci voglio più giocare con te Mi dispiace Basta basta Certo qualcuno ti deve offrire No Eh si Ah dici Non è sempre tutto rosa e fiori nella vita Screenshot del PPSH Fraccio da nell'altro account Porco il demoniaccio Pugnatura in tessuto Roccio da 3,30 Caricatore da 72 Cioè che ha preso dalla strada Della strada quella delle favela Quindi conosco i settaggi al meglio Sì Perfetti proprio Poi se vi servono i pezzi contattatemi Weyla 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 Mossa finale Io l'ho vista e l'ho trucidata a quella Mamma mia Che vergogna Anto Io gli sono scesi nel faccio col parac... Ahahahahah Lei è coraggiosa Ritale di Struzio Mamma mia Non trolla anche la freccia Non c'è il tetto Non c'è il tetto Non c'è il tetto Basta allenarsi Affronterete dei veri nemici Cosa andiamo? Guardate che stai parlando Cosa? Ci fai vedere il set di armi che usi Gianni, sì, ti faccio vedere come faccio adesso Adesso faccio fatica perché è già iniziata la partita Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte non c'è il carrello oh le occhie aperte l'ora quello con l'altra andare qua avanti 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 uno alla finestra qua andare qua andare non ti capire questa porta io non l'ho mai aperta che ti colpi raga un colpo non me lo fa pingare non me lo fa pingare lasciare andare non me lo fa cagare no tutte e due lì a graveyard proprio al ping due 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 sono due l'altra da te marty potevi campare mamma mia come accertiva questa tozzella my god bro allora andiamo qua tenete il paracadale dove dove c'è un altro c'è un altro c'è un altro terra un altro l'altro non ne vedo meno ma qui è andato due qua venga azzurro tipo dentro l'acqua Sì, è questo Siamo loud Siamo loud Igual di qualcosa Va bra Sì sì Sempre su Mio dio che tromba Bello sto bomba Ti è piaciuto? Sì E' stato te Bravo Bello bello era Certo Tira una scammata Qua 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 Sì Ah ti vedete Taccato Ah non ti ha fatto brutta eh Sì brava brava Non c'ho provato a scammarle niente Mi pingate il nuovo là che è venuto Ah beh ce l'ho fatto eh Giochi sempre con gli abbonati Ultimamente sì Cioè sì Eh per forza perché se no Eh se no non c'ho da fare Eh Ok Ok non vedo più Eccoli qua Guarda 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 Tutti lì tutti lì tutti lì Tutti qui All'od 3 3 3 3 3 Oh Due craccati What? Bot del cazzo Dai Dai Tampo dai Questa è un bel abbonato che è bravo Buttato giù Ok C'è l'ora mista No no Te lo d'auto Non li senti che succede? Te lo d'auto C'è uno con lo scudo Nooo Noo Basta Dai Simone Fai una bella Sam Un bell'abbonamento 5 euro 2 canette Dai Un pacchetto di mandorle 5 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 13 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 18 18 18 18 20 22 24 25 25 26 27 Oh 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 Mi hanno scoperto Mi ho terrato i 300 raga 300 3 ne avevo terrato i 3 No, guarda lo sciocco, bella cazzo Tanto io spawno Stati uniti raga, siete troppo divisi Stati uniti tra di voi Non lo vedete Minchia te lo metti quando senti passi sopra però Ara Non lo so anche te Ah no Stati uniti Stati uniti per leone da Una botte da qua Ci erano delle armi dove erano tutti tutti quelli che erano qua Abbiamo gente là dentro Stati uniti Abbiamo gente sotto Ma secondo me ci dobbiamo girare subito Noi devo farmi un'arte Guarda dove spari Guarda dove spari Sta Gira Marti, gira, 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 vai giù, vedi giù Stanno faiettando tra di loro Quale tenda? Ce ne sono sei Non lo so Da dietro, da dietro, da dietro Casettino un po' più in gaviona Bavessimo Ciao pelate, come stai bello, grazie per lei Finchè la barca va Lascila cagare No, no, no Stantala Vediamo se vengono Entrano gli altri due bottazzi Finchè la barca va Ba, 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 ba dun 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 beh non entra nessuno è quel che è invitato a tutti uno la labbra vai antoni grazie broschi buona serata allora allora già dico meta po uno tappo ma si dai si può dire di sé voi ma si ma sei mai tra me la vita è merda per tutti classicina per la velga oh my god bro la classe è gianni ti faccio vedere l'arma guerra che sto usando la velga intanto cielo su instagram però è vecchia vediamo un po un po vecchio non c'è proprio al massimo è monti era da verga aia non va bene fratello non va bene porco cazzo però niente l'ho cancellato pure su instagram porco due avrà niente fisciato una volevo vedere quella con la radice 35 è fra c'è un altro profilo gianni qua non ce l'ho la classe sono solo quella dell'arma guerra del stg su questo profilo non c'è mai niente non c'è 40 o 64 colpi monti di che allora non c'è mai niente non c'è l'attrezzatura non c'è tempo che riguarda la missione non c'è niente non c'è niente non c'è niente età è no Basta le nazi 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 prima non c'è male pezzo di me finché la barca va ecco dillo dillo non c'è e se sente la polis mi sentite anche a voi mi sentite la polis su tremo eh no eh su tremo tutto bene mi cittadone tapposti broschi su questo isolotto qua torniamo su un isolotto ok ok agriviar minghione qua qua oh sì così ciccio sì vai non fermarti aiuto c'è gente aiuto c'è gente dove pinga non lo so non lo so non lo so ma non lo so Ok, let's go! Ok, let's go! Pusciamo a random! Troppo random, tu direi! Ok, posso sopra? Sì, Pierossi! Full team! Nono 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 nonono nono 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 nonono nono no! Tutto la casetta! Braccato? Uno la dietro! Ah sta pushando un altro team ma.. Ma dove siete, raga, Gesù capito! Bene, sei! Sono qua, sono! No, abbiamo pure il cento dietro, vabbè, mi dissocio. Uomo di merda! Un buon robatore, mi sto infarmi. What? Si, non ho anche! Occhio! Davanti c'è, che devo dire. No! Finchè la barca va. Quando finisci di lavorare va sempre bene. C'è credo, vratellone, c'è credo. Ti capisco, Broski. ci voglio di mangiare un po' di gressini e vado in bagno anche ti è arte povera grazie a tutti 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 una terra grazie a tutti 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 lascia grazie a tutti front front dietro la grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a destra grazie a tutti front front grazie a tutti sono sui grazie a tutti grazie a tutti con la 202 grazie a tutti 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 stasera fine guarda guarda che scammata grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti nooo grazie a tutti 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 wow grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti guarda grazie a tutti no 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti go 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 grazie a tutti grazie a tutti dove andiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti